Qui nell'elementario ho due nuovi dispositivi che ha presentato Samsung durante il Mobile World Congress Non parliamo di due top di gamma, ci concentriamo più sulla fascia medio di gamma barra entry level Infatti nella mia mano destra ho il Galaxy A30, ovvero uno smartphone che posteriormente presenta una back cover in plastica Sembra quasi vetro ma non lo è, infatti trattiene anche molte ditate Abbiamo il lettore di impronte digitali sulla parte posteriore con una dual camera con sensore da 16 megapixel più 5 megapixel Mentre frontalmente abbiamo un ampio display da 6.4 pollici di diagonale in Full HD+, un Super AMOLED quindi un buon punto a favore All'interno del notch a goccia o comunque, sì diciamo che più o meno è a forma della classica goccia della Waterdrop E abbiamo una fotocamera dicevo da 16 megapixel Per quanto riguarda invece i tagli di memoria abbiamo due varianti, una 3 o 3 o 4 GB di RAM o 32 o 64 GB di ROM Con batteria da 4000 mAh ma questo non arriverà sul nostro mercato Parliamo invece di quello che arriverà da noi, infatti in Italia vedremo questo Galaxy A50 Sempre display Infinity U display con noccia a goccia e fotocamera interna da 25 megapixel Sempre con display AMOLED, Super AMOLED però, no scusate dicevo sempre da 6.4 pollici di diagonale Andate a vedere la back cover, quello che cambia è che abbiamo un materiale che sembra anche questo vetro però molto probabilmente plastica La cosa che cambia dicevo è la tripla fotocamera, infatti abbiamo un sensore da 25 megapixel, un altro da 8 megapixel e un altro da 5 megapixel per la profondità di campo Scusate, frontalmente dicevo fotocamera da 25 megapixel Mentre per quanto riguarda i tagli di memoria abbiamo o 4 o 6 GB di RAM Mentre la memoria interna è o 64 o 128 GB di memoria interna Andiamo a vedere anche il software perché abbiamo Android 9 Pie con One UI 1.1 La differenza rispetto al Galaxy A30 è che abbiamo un sensore di impronte digitali sotto al display Ovviamente in questo momento non è impostato però è presente sotto al display Inoltre la batteria è da 4.000 mAh con ricarica rapida da 15 Watt Quindi abbiamo la fast charging Disponibile in quattro colorazioni ovvero black, white, blue e coral Per quanto riguarda invece l'arrivo e il prezzo in Italia Arriverà sicuramente, non sappiamo, non abbiamo informazioni ufficiali Quindi magari vi aggiorneremo nei prossimi giorni